Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco per tornare a parlare della storia di Pasquale imperato e della sua battaglia per il superamento delle barriere architettoniche in città dopo l'intervento del comune. Vi mostriamo le immagini della sua prima uscita. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano dove la situazione resta stabile. Spazio anche alla cronaca con l'operazione congiunta di polizie e carabinieri ai quartieri spagnoli per il recupero di auto e moto abbandonate. In chiusura lo Sport con la Turris, vittoria in trasferta per i Corallini per il punteggio di 4 a 1. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Con l'audo della striscia di asfalto chiesta da Pasquale è ottenuta in breve tempo grazie all'intervento del servizio urbanistica. Pasquale imperato ha vinto la sua prima battaglia. Grazie all'immediato intervento del comune e del servizio all'urbanistica si è provveduto ad asfaltare lo spazio antistante all'uscita dalla sua abitazione nel rione Raiola che in precedenza era poco sicuro a causa del fondo dissestato e di difficile percorrenza dovuta anche alla presenza di ostacoli vari. Ora Pasquale va a testare l'apertura dei paletti di fronte al Poseidon. Successivamente sono stati effettuati anche consistenti miglioramenti in via dei Carpentieri, stretto passaggio che conduce via Monsignor Michele Sasso, proprio di fronte all'hotel Poseidon. Sono stati distanziati i paletti che servono a favorire esclusivamente il passaggio pedonale e a dissuadere il passaggio di mezzi motorizzati, ma che prima, a causa dell'eccessiva vicinanza tra loro, impedivano anche il passaggio della carrozzina su cui si sposta Pasquale. Ed inoltre è stata installata una rampa che facilita l'ingresso e l'uscita sulla strada, evitando la complicazione di salire e scendere dal marciapiede. Un importante intervento che sarebbe essenziale normalizzare, senza che si renda necessario il continuo appello da parte di coloro che affrontano problemi simili quotidianamente. La nostra prima battaglia ha avuto un esito positivo. Restano stabili i contagi nei comuni vesuviani. Nel Comune di Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino risalente a venerdì sera, si è registrata una sola nuova guarigione, certificati invece quattro nuovi casi di positività. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 85 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel Comune di Torre annunziata si sono registrati tre nuovi casi di contagio nelle ultime 72 ore, a fronte di 194 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,54%. Al contempo si registrano sei guarigioni. Sono 42 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 49.008. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.100, 61%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.908, 74%. Continuano i servizi dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e della Polizia Municipale di Napoli, incentrati nella lotta all'abbandono dei motocicli e delle auto. I mezzi, in evidente stato di abbandono, intralciano le strade, restando per mesi accantonati, risultando uno sfregio per la città. Le operazioni, svolte nel giro di 24 ore dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro e dal nucleo veicoli abbandonati della Polizia Municipale, si sono incentrate in via Santa Caterina da Siena e in salita vetriera dei quartieri spagnoli. Rimossi 30 mezzi in tutto, 26 ciclomotori e 4 auto. I veicoli erano in stato di abbandono o rubati. Questo servizio ha permesso di ripulire le strade del quartiere e continuerà nei prossimi giorni e le altre zone della città. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e la Polizia Municipale Partenopea invitano tutti i cittadini a rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare la presenza di mezzi abbandonati per le strade, spesso privi di assicurazione. La Turris formato trasferta chiude la pratica vibonese segnando 3 gol già nei primi 20 minuti, con una prestazione audace e cinica mettendo la partita in discesa e portando a casa il bottino dei tre punti con il risultato finale di 4-1. I Coralini partono forte, al dodicesimo è già vantaggio, azione Leonetti-Varutti con quest'ultimo che mette una palla nel mezzo che colpisce il braccio di un difensore, rigore con il capitano Coralino Giannone che dal dischetto batte Marson. Al diciassettesimo minuto Tascone per Varutti che mette in mezzo un pallone teso sul primo palo, Santaniello disturbato da un difensore vibonese non riesce ad impattare la palla che colpisce il corpo dello sfortunato difensore Vergara e di autorete 0-2. Ventesimo minuto, corner dalla destra per la Turris, Franco vince un duello aereo e rimette palla in aria con l'attaccante Leonetti, l'esto a ribadire in rete da pochi passi, la rete dello 0-3. Coralini in totale controllo. Nella ripresa l'allenatore della vibonese d'Agostino opta per un doppio cambio e con un assetto più offensivo, ma solo al sessantatresimo minuto i padroni di casa accorciano le distanze con Mauceri, bravo a mettere alle spalle di Abagnale un cross di Senesi, abile a superare in uno contro uno il suo diretto avversario. Mister Caneo mette la partita in ghiaccio effettuando un doppio cambio e passando al 3-5-2 comprendo bene il campo, gestendo la partita e infilando dei minuti di recupero proprio con il neo entrato Loreto, abile a scattare ed infilare con freddezza il potere calabrese per il definitivo 1-4. La Turris tornerà in campo giovedì, nel turno infrasettimanale in cui farà visita al Catania, con diretta visibile oltre che in streaming anche agli abbonati alla tv satellitare. Fischio d'inizio alle 14.30 Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'e-mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie. Grazie.